Ciao ragazzi, sono tornato con un nuovo video oggi per parlarvi di un libro che finalmente ha risposto alla domanda che sta sempre attaccata alla mia mente Esiste uno o più modi per essere non produttivo ma super produttivo? Ebbene, stavolta la cosa potrebbe sorprendervi perché non è stato un manuale da 2500 pagine a rispondere a questa domanda ma è semplicemente una copertina, un titolo Questo Josh Davis, due ore al top Magroedizioni, 14,50 euro E voglio dire, per essere super produttivo e aver scoperto non si sa che cosa 14,50 euro è una cifra che si può spendere Ma che cosa ci dice Josh Davis in 150 pagine? Ci dice una cosa molto semplice Alcune di esse non ve le sto a spiegare Ambiente lavorativo ordinato, tutto quanto a portata di mano Gli strumenti giusti, le solite cose che ormai abbiamo sentito in tantissimi libri Ma due ore al top, ho fatto fare una considerazione abbastanza insistente Sulla quale poi mi sono concentrato e mi sono dato purtroppo una risposta Due ore al top Josh Davis ci dice Nell'arco della giornata, a differenza di Brian Tracy che dice subito Appena vi svegliate, subito La cosa più importante è fatela immediatamente Josh Davis cambia questo aspetto e ci dice che a lui non gliene frega nulla Del momento in cui iniziamo a fare la cosa più importante della giornata E quindi la priorità Ma ci dice fatela quando siete all'apice della vostra forma mentale, forma fisica Insomma, quello che quando state meglio Ma una volta che iniziate l'attività dovete scegliere un tempo Che lui dice possono essere 40 minuti, un'ora, due ore, cinque ore Non ha importanza, due ore al top ovviamente è un titolo abbastanza così generico Ma in quelle due ore, un'ora, quello che sia Dovete essere estremamente concentrati, estremamente produttivi Senza farvi distrarre neanche da un terremoto Questa considerazione può essere abbastanza così banale, scontato Dice vabbè grazie che se tu stai lì due ore concentrato sei produttivo La domanda che mi sono fatto è stata la seguente Quante volte sinceramente io ho scelto un range di tempo All'interno del quale essere iper mega ultra produttivo Ma soprattutto per quanti giorni l'ho portato avanti Questo mood, questo asset mentale Ebbene la risposta non è stata proprio tra le più felici Io non mi considero né una persona iper produttiva E nemmeno la persona meno produttiva del mondo Diciamo che mi considero mediamente produttivo Ebbene ma da quando sto cercando la super produttività Che non equivale al super lavoro O a essere stacanovista della situazione Ebbene ho riflettuto a fondo su questa considerazione E sono giunto alla risposta finale Alla conclusione delle conclusioni Voglio provare almeno per 30 giorni Tranne la domenica perché per me la domenica Anche se a volte lavoro ma è un giorno comunque di relax Comunque in un mese voglio cercare di essere iper produttivo Almeno per una sola ora ogni giorno In quell'ora spengo il telefono Non mi faccio chiamare da nessuno Mi barrico dentro casa Spengo tutti i dispositivi elettronici Tranne forse la videocamera Perché avevo l'idea di portare Diciamo così questa challenge Chiamiamola in questo modo E farvi vedere il risultato giorno dopo giorno E poi fare una summa totale Fatemi sapere se può interessarvi Così la faccio volentieri Comunque ad ogni modo la risposta è stata Io non ho mai fatto questa cosa Questo esperimento Motivo per cui non considero banale Ciò che ci ha detto Josh Davis Ritagliatevi un momento Lo decidete voi Quando e quanto soprattutto deve essere lungo Brian Tracy invece ci aveva detto In altri libri Di essere produttivi la mattina Subito Uno si sveglia a colazione Produttività Se lavori alle 9 ti sveglia alle 5 Non è proprio così per Josh Davis Josh Davis ci dice Che anche se noi facciamo un orario d'ufficio E stacchiamo alle 17 Possiamo anche essere iper produttivi Dalle 18 alle 20 Per assurdo per esempio Quindi si distanzia da Brian Tracy Per questo motivo Quindi per la scelta del momento Per essere produttivi Ma in sostanza Lui Josh Davis Punta la sua attenzione Sull'iper produttività Per un range di tempo specifico E definito prima Ora Se per voi questo messaggio Come per me lo è stato all'inizio A primo impatto E' banale E' scontato E' bravo Josh Davis Grazie per questa scoperta Bene Vi chiedo anch'io Quante volte avete provato A mettere in atto Questa strategia Con In sincera concentrazione Con tenacia Con regolarità Non cedendo a nessuna distrazione Se la risposta è Io sono così da 5 anni Allora potete spegnere il video Bloccare tutto Non iscrivetevi al canale Perché siete maestri Nella gestione del tempo Ma se la risposta è Ma Non ho proprio messo in atto Questa strategia Con convinzione Ma soprattutto con tanta regolarità Io vi invito a farlo Lo farò anche io Poi ci aggiorniamo sul canale Perché sicuramente uscirà Un altro video Su questo libro Io intanto vi ringrazio Per aver visualizzato il video Vi voglio bene Ci vediamo alla prossima recensione O al prossimo video Ciao